Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti gli ascoltatori del newsletter di Tecnologie Meccaniche. Dopo l'ottimo risultato ottenuto lo scorso anno con il convegno Additive, anche quest'anno Tecnologie Meccaniche, in collaborazione con Il Filometro Rosso, organizzerà un evento dal titolo Robotica e Automazione, sfide e opportunità per il futuro della produzione. In avvicinamento all'evento che si svolgerà l'11 aprile prossimo, proprio al chilometro rosso, abbiamo ai nostri microfoni uno dei relatori del convegno, l'ingegner Domenico Appendino, Presidente di Siri. Intanto grazie ingegner Appendino per la sua disponibilità. Grazie a voi di avermi invitato, cercheremo di dare l'informazione che l'associazione di cui ho onore di persiedere possa essere utile per il convegno. Bene, e grazie proprio all'aiuto dell'ingegner Appendino, la sua esperienza, la sua competenza nel settore della robotica, cercheremo proprio di fornire una breve fotografia del mercato, che poi chiaramente l'ingegner Appendino approfondirà e svilupperà in modo più chiaro e più puntuale durante la sua relazione al convegno. Allora iniziamo subito con la prima domanda. Ingegnere, come Presidente di Siri, ci può dare un'idea con alcuni dati del posizionamento dell'Italia nel settore della robotica? Con molto piacere, anche perché i dati non sono brutti, quindi quando abbiamo dei bei dati è sempre un piacere presentarli. Beh, innanzitutto noi ci basiamo sui dati FR, a cui si ricontribuisce per quello che è la robotica italiana e gli ultimi a livello mondiale sono gli FR rapporto World Robotics 2023 che porta i dati ovviamente del 2022. Dunque, direi che in sintesi, perché chiaramente questa è una chiacchierata molto veloce, ci sono 4 milioni di robot che lavorano nel mondo, quindi un numero abbastanza importante, pensate che nel 2020 erano 3 milioni, quindi in due anni non si sono moltiplicati quasi per una volta e mezza. La vendita del 2022 nel mondo è stata di mezzo milione di unità, con una crescita abbastanza piccola, ma sappiamo nel momento in cui stiamo vivendo, però dopo un 2021 che aveva visto una crescita del 31% a livello mondo, superando i dati pre-Covid. Quindi un momento molto particolare in cui si vede dai numeri macro una crescita che continua nonostante i problemi che ci sono e che ha superato praticamente il grosso problema del Covid. Come si colloca l'Italia? L'Italia è in una posizione di sesto paese al mondo, sia per robot installati che per vendita, posizione che chiaramente è più bassa di un'Italia di tantissimi decenni fa nel secolo scorso, quando è stata per molto la quarta potenza della robotica nel mondo, ma perché allora certe nazionalità asiatiche, le tigre asiatiche non erano ancora cresciute, e quindi vedevamo Cina, Corea, vedevamo altri paesi, Taiwan, in fondo alla classifica e che non vedevamo ancora una crescita. Poi l'Italia non è che sia decresciuta, l'Italia ha continuato a crescere, ma sono cresciute di più queste tigre asiatiche, tra cui ovviamente la Cina, di cui vi darò qualche dato dopo che farà veramente impressione. Quindi l'Italia era scesa, però è arrivata addirittura all'ottavo posto, ma in questi ultimi anni è risalita al settimo e adesso saldamente al quarto. Questo sesto posto mondiale si accoppia ad un secondo posto da sempre europeo dopo la Germania, il nostro grande riferimento e concorrente, in cui però è saldamente posizionato da tempo e che in questi ultimi periodi, direi, ha portato risultati più interessanti. Cosa è successo nel 21 in Italia? Un più 8%, perdono, nel 22 in Italia, un più 8%, però dopo un 21 che aveva avuto una crescita del ben 51%, quindi superiore al 30% del mercato mondiale. Quindi l'Italia che si sta performando molto bene e se la confrontiamo quindi adesso di nuovo nel 22, i dati più recenti, con il mondo che è una crescita del 5% e con la Germania che è una crescita del meno 1%, vuol dire che è un paese che sta andando decisamente bene, meglio di altri, che sovente noi vediamo con molta venerazione e che invece dovremmo ogni tanto vedere più con gli occhi alla stesso livello. Se poi facciamo l'analisi della vendita media degli ultimi anni, vediamo un'Italia che cresce dell'8%, con una Germania che è cresciuta soltanto, tra virgolette, del 4% ed un mondo che è cresciuto del 7%, quindi altri dati di tutto rispetto che collocano il nostro paese in una posizione sicuramente interessante. Ultimo piccolo particolare che però non è da poco. Il Covid è stato veramente un fenomeno importantissimo, come sappiamo, nell'economia mondiale per i disastri che ha creato. Se facciamo un confronto tra 18 e 22, quindi con un ampio margine rispetto al fenomeno e quindi certo, vediamo e andiamo a esaminare i famosi top 6, cioè i 6 paesi che da soli portano a casa più del 75% delle vendite nel mondo, che sono in ordine decrescente, Cina, Giappone, Stati Uniti, Corea, Germania ed Italia, il sesto posto, gli unici due paesi che hanno superato il numero di vendite del 18 dopo il Covid sono Italia e Cina. Non dimentichiamo che la Cina oggi, proprio nel 22, per la prima volta ha venduto da sola più di tutti gli altri paesi messi in giro, 268 mila robot venduti dalla Cina, in Cina, contro i 517 nel mondo che sono sostanzialmente il 52% del mercato mondiale. Quindi direi che da italiani possiamo essere abbastanza soddisfatti. Bene, bene. Da questa soddisfazione di installazione, mercato, soluzioni e così via, però l'Italia, in che cosa si caratterizza nel mondo della robotica rispetto agli altri paesi? L'Italia si caratterizza, direi, soprattutto per una peculiarità che è tipica della nostra cultura e delle nostre capacità tecniche. Noi sappiamo che la realtà meccanica in Italia è molto importante, però purtroppo il costruttore di robot in Italia non hanno avuto, diciamo, quella crescita che hanno avuto altri nel mondo. Per cui oggi abbiamo sostanzialmente due grandi costruttori in Italia, nella robotica multifunzione, Comao, nella robotica specializzata, Laser per industrie, però altri costruttori che vantano numeri di robot stand-alone molto elevati sono pochi o pochissimi. Però in Italia si è sviluppata un altro tipo di cose. IFR ha accensito da una statistica che se prendiamo un impianto automatico di automazione flessibile fatto da robot, il robot vale un terzo, qualche volta anche un quarto del valore dell'impianto stesso. Tutto il resto è fatto di trasportatori, mani per robot, sistemi di automazione molto complessi e sovente molto demanding intelligenza per essere concepiti, che in Italia si deve fare molto bene. Quindi in Italia noi abbiamo raggiunto questi numeri perché abbiamo un gran numero di system integrator, di integratori di robot che inventano tutte le volte gli impianti con robot standard e tutto il mondo, tutti i grandi costruttori di robot che hanno in Italia non dei venditori, ma appunto degli applicatori che comprano queste macchine e le vestono in impianti, vedono nel nostro paese veramente un laboratorio per nuove applicazioni, per applicazioni intelligenti, per ricerche e quindi applicazioni che poi vengono anche vendute fuori dall'Italia. Quindi i nostri numeri non riguardano soltanto i robot che stanno in Italia, ma i robot che sono acquistati in Italia e che poi prendono altre strade, vanno in altre parti del mondo e quindi sono doppiamente importanti per noi a livello economico e anche ovviamente sul mercato dell'estero e quindi per quello che è il nostro valore aggiunto tipico di un'economia come la nostra. Benissimo. E allora quali sono invece i settori principali nei quali la robotica vede il maggiore utilizzo in questo momento? E anche qui è interessante vedere la differenza tra Italia e mondo. Se noi guardiamo il mondo, tutto il mondo, quasi tutti i paesi, a parte alcuni, hanno sostanzialmente cinque settori industriali che sono quelli che sono censiti sempre dai FR e anche noi in Siri licenciamo con lo stesso criterio di uniformità statistica e vedono per primo l'automotive, poi l'elettronica, comprendo ovviamente anche l'elettrotecnica, la metalmeccanica, la chimica con i materiali plastici e l'alimentare. Questa è la classifica nel mondo dei robot installati e che lavorano. Se andiamo invece a vedere già le vendite, dal 2020 l'automotive, per gli ovvi motivi che conosciamo di questo settore, è stato superato dall'elettronica o l'elettrotecnica. Cosa succede in Italia? In Italia invece abbiamo proprio posto la metalmeccanica, poi l'alimentare, poi la chimica con i materiali plastici, solo al quarto posto l'automotive e l'elettronica alcuni. e questo è chiaramente tipico di un paese come l'Italia, in cui l'elettromeccanica, la metalmeccanica scusate, è estremamente importante, dove c'è un food che sappiamo quasi da tutto il mondo invidiato e quindi porta con sé tutta un'informazione dietro importante e poi una chimica che col plastico ha una storia che sappiamo è importantissima in Italia. Quindi una caratteristica che ha già un po' anticipato le tendenze del mondo, ma che più che altro rappresenta quello che è il nostro mondo, in cui sostanzialmente il settore oggi della metalmeccanica e del food sono sicuramente i due settori più importanti nel nostro paese, anche qui pensando a quello che è l'esportazione, oltre a quello che è lo sviluppo industriale interno. Benissimo, molto chiaro. Per diversi anni si è sempre pensato che la robotica e l'automazione fossero un qualcosa a pannaggio solo delle grandi imprese, la cosa è stata assolutamente sfatata negli anni, quindi oggi è veramente un fattore strategico la robotica e l'automazione per le piccole e medie imprese? Indiscutibilmente sì. Non dobbiamo dimenticare che la robotica è nata per tutta l'industria, non solo per le grandi. I due motivi dell'industria della robotica sono due motivi tipici di un settore profondamente sostenibile, per usare un termine moderno, è nata per automatizzare anche quelle operazioni che l'automazione non ce la faceva, ad automatizzare per togliere il lavoro pesante, ripetitivo, dannoso, pericoloso per la gente e dall'altra parte per dare più competitività all'azienda, garantendo qualità costante, garantendo flessibilità e quindi possibilità di trasformarsi, tutte caratteristiche che sono più tipiche della piccola che della grande azienda, ma chi aveva la forza di investire in macchine innovative, difficili ancora da programmare, costose come erano i robot all'inizio, grandi aziende, automotivi e altre, e quindi è entrata lì. Però la robotica doveva fare un altro mestiere, un mestiere che adesso sta venendo fuori, perché i robot sono assolutamente più economici, sono più facili da programmare, e poi soprattutto con la robotica collaborativa, hanno e possono lavorare vicino all'uomo, hanno quindi caratteristiche di sicurezza intrinseca molto forti, che fanno sì che non si va a cambiare un layout produttivo o una logica di processi, un'azienda medio-piccola, mentre invece l'azienda grande per l'automazione era pronta a cambiare questo, a caratteristiche velocissime, che però devono per forza avere i robot in gabbia per motivi di sicurezza. Quindi direi è un ritorno all'origine in una forma diversa, però in una forma che evidentemente ha delle motivazioni, che fanno capire perché si è potuta arrivare a questo. Benissimo, chiarissimo. Hai parlato di robotica collaborativa, argomento sicuramente di grande attualità, ma a che punto siamo e quali strade ancora da percorrere perché l'interazione tra uomo e robot si è sempre più sicura, affidabile e produttiva? Sicuramente questo è un tema molto importante, direi che forse sono due i temi più importanti per diffondere di più la robotica e per migliorare l'interazione tra uomo e robot. Uno è la robotica collaborativa e l'altro l'intelligenza artificiale, ma direi che tra i due oggi è più importante quella collaborativa. L'intelligenza artificiale e la robotica entra e entrerà di più sostanzialmente in due settori. Da una parte il discorso di rendere i sensori dei robot grazie alle capacità dell'intelligenza artificiale più performanti, migliori, con applicazioni più ampie e quindi di conseguenza migliorare la capacità del robot di autoadattarsi, che non vuol dire avere l'interazione artificiale. Magari ci saranno algoritmi nei sensori. Poi, con la programmazione, con il deep learning, si migliorate e si migliorerà molto la programmazione del robot. Ma questi sono passi che fanno sì che la robotica, che è il mondo dei colletti blu, non ha quei problemi, anche quei benefici, che invece questi strumenti, che sono per i colletti bianchi, invece ci sono appunto nel mondo dell'impiegatizio. Quindi, sostanzialmente, direi un po' che l'intelligenza artificiale è dei colletti bianchi, mentre nei colletti blu i robot fanno altre destine. E quindi, la collaboratività, cioè il fatto che il robot possa uscire dall'allegabile, mettersi a lavorare vicino all'operatore umano senza dargli nessun problema di sicurezza per tutta una serie di innovazioni apportate a queste macchini in termini di pelle sensibile o di sensoristica, per cui non può praticamente danneggiare l'uomo e quindi essere vicino a lui e quindi creando all'uomo gli strumenti più performanti e più, non sono mai compagni di lavoro, sono strumenti per il lavoro dell'uomo e che quindi gli permettono di pensare a delle isole automatizzate in cui uomo e robot sono vicini e si dividono i lavori più stupidi nell'importante al robot collaborativo all'uomo naturalmente quelli che gli fanno più piacere fare. Dimentichiamo, la robotica in questi ultimi decenni ha aumentato l'aspettativa di vita non è che era incredibile, è un dato fuori tutto. Se pensiamo a come erano i nostri vecchi anni fa praticati dal lavoro, un lavoro fisico che chiaramente il robot ha tagliato lasciando all'uomo lavori di altro tipo, più facile, più piacevole, più umano sostanzialmente. Quindi questo ha fatto sì che sono entrati anche per il costo minore, la facilità di programmazione è come dicevamo maggiore, basta un tablet, basta uno smartphone e quindi chiaramente questo ha dato uno sviluppo importante e apre il muoio. Qual è il problema? Il problema è che purtroppo non è che mettendo un lavoro collaborativo sia un'applicazione collaborativa, bisogna anche mettere in mano questi robot collaborativi, strumenti e impiantistica vicina con lo stesso criterio di sicurezza, cosa che oggi ancora non è così chiaro a tutta la gente. Io ritorno a un vecchio esempio che mi piace fare, un coltello in mano a una madre taglia il pane per dare da mangiare il bambino e in mano a un assassino uccide una persona. È chiaro che dipende da cosa fai fare al robot, ma se al robot metti in mano uno strumento, una mano che non è collaborativa per spostare un pezzo, o gli metti uno strumento tagliente chiaramente non c'è più sicurezza. Quindi con questo esempio brutale però fa abbastanza capire come lo sviluppo deve essere per robot collaborativi che però sono pensati nella loro applicazione, dai nostri bravissimi applicatori che abbiamo in Italia, in maniera collaborativa, perché sennò non ha nessun senso un'operazione fatta. Benissimo, grazie mille, grazie mille Ingegner Pendino, sempre molto chiaro e puntuale nelle risposte. Penso che gli stimoli per i nostri lettori, visitatori del nostro sito e delle nostre newsletter possono essere diversi. A questo punto non facciamo altro che dare appuntamento a tutti al convegno dell'11 di aprile ringraziando ancora Ingegner Pendino per la sua disponibilità e in quell'occasione penso che gli argomenti qui trattati in breve potranno essere ulteriormente sviluppati e approfonditi in quell'occasione. Grazie mille e arrivederci ad una prossima intervista di Tecnologie Meccaniche e Tecmec. Grazie.